Rimazzo d'attacco, quindi terza azione offensiva per la Givova Stone fuori per Logan da parte di Thompson Tiro da tre punti da parte di David Logan Si iscrive a referto David Logan con una delle specialità Marco Bellinelli sbagliato, lotta a Jaitema Inbrou uscire vittorioso col pallone Va sua, ancora una volta molto bene Steno Goy Si protegge stavolta di Manomancina Possesso alla formazione Virtusina che prova ad attaccare con Lundberg Si torna dal Giorgiano, ribaltamento di lato Attacca Hackett, la posizione non perfetta da parte di Inbrou End off Jaitema per Lundberg che torna fuori da Bellinelli Fuori per Schenghelia, tiro da tre punti Tito con Schenghelia A contenere Pinkin si va da Wims, ribaltamento di lato per Lundberg Prova ad attaccare il recupero Hackett, deve prendersi il tiro Daniel Hackett sulla sirena Prova a spaziarsi, va da Jaitema, si torna da Hackett Ribaltamento di lato per Lundberg, step laterale Tiro da tre punti da parte del danese che si impenna sul ferro Giro dorsale, classico contro Stone Prova a metterci il fisico fuori Schenghelia per nessuno, c'è Okoy Transizione per Scafati, va su Okoy Si protegge, due punti importanti per Stone Okoy Lamb a 45, sfrutta il blocco di Thompson Prova ad esplorare il pitturato, fuori per Okoy Tiro da tre punti da parte di Stone Okoy Che non si ferma più Si mette in visione Okoy Contro Wims, Inbrou arriva al blocco di Pinkins Lo serve Inbrou, va su e appoggia il tabellone Cruz Pinkins Più 10 per la Givova Scafati Beve Thompson Inbrou, 5 secondi Prova ad andare da Thompson Che fa saltare l'avversario diretto E va a schiacciare Con grande lucidità Scafati in quest'azione Non molla un colpo questa Givova Bellinelli, flyby di Stone Che manda in prenotazione tutta la difesa E allora stavolta è Mannion a colpire da tre punti Decisivo quarto parziale Mannion attende l'uscita di Hackett Che è... Poi si fa vedere Ma Mannion va su con la difesa scafatese che si apre Logan non lo serve perché c'è Mannion che mette grande pressione sul numero 24 Show da parte di Miki Tiro da tre punti Di Steno Koye Importantissimo Sua squadra Dentro fuori per Schenghelia Per Mannion che va su Si appoggia il tabellone Il ferro accoglie il tiro del numero 1 Continuano i cambi per Coach Kaya Che ruota Che ruota Instancabilmente i suoi E qui l'attacco campano Logan contro Miki Che ha accettato il cambio difensivo Due secondi, un secondo Fuori da Lamb Importante Da tre punti Doro Lamb I campioni d'Italia Della... Di due anni fa Cadono Sul proprio campo Per la prima volta In questa stagione Che fino ad essa Fino ad adesso Era stata Perfetto